e andiamo bello pettinato e la bello ho pettinato il motore qui c'era il sarto l'hanno levato c'era quello intavolato qui subito a sinistra di qua no di qua non era questo quell'imparcatura arte io credo qui non ci sia più perché sembrava già periolante vediamo vediamo e la bella l'ultima volta ci siamo un cappuccino c'era più zorcoli ora invece comunque l'hanno aggiustato parecchio un'altra 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 Grazie a tutti